Ancora sulla Tamascina, nelle mire di una banda di malviventi, l'ultimo colpo di una lunga serie è stato messo a segno questa notte in un bar di zona Tortaia, immediata periferia Aretina. Dopo la violenta irruzione al Caffè La Rosa dei Venti, dove la titolare era stata picchiata e imbavagliata e i due furti, uno in Baldarno ed un altro in Via Fiorentina, questa notte attorno alle tre una banda di ladri è tornata in azione. Da lì e là l'ha tagliato, è stato rilegato, se no questo era tutto giù in terra, il palo lì in terra. La banda armata di tronchesi è riuscita a crearsi un varco per poter fare irruzione all'interno del bar. I banditi prima hanno infatti diverto un'inferriata e dopo hanno mandato in frantumi il vetro di una finestra che si trova sul retro del locale. Il vetro rotto, il vetro era interno e la sbarra così. Una volta dentro i malviventi si sono immediatamente diretti verso le tre slot machine e il cambiamonete, che sono riusciti ad asportare di netto e a caricare molto probabilmente su un furgone bianco. Il mezzo e le macchinette scassinate sono stati infatti ritrovati nei pressi dell'aeroporto a Rettino di Molimbian. Con un furgone rubato a Firenze, l'ha lasciato lì il furgone e macchinette scassinate e hanno portato via soldi, sicuramente erano con la macchina anche. I ladri avrebbero così proseguito la loro fuga con un bottino che si aggira attorno a qualche migliaio di euro. Grazie.